Si dice che il mondo evolva oggi con grande rapidità e che per riuscire a capire come il mondo stia evolvendo servono i dati, dati affidabili, dati di qualità. Ma dove trovarli questi dati? Dove trovare le statistiche che descrivono la nostra vita e magari il nostro futuro? Come riuscire a capire se quei dati che leggiamo sui giornali sono proprio affidabili, sono quelli che ci aiutano a capire? Per questo il nuovo sito web dell'Istat è stato completamente ridisegnato. Ogni anno abbiamo circa 3 milioni e mezzo di visitatori, ma noi puntiamo molto più in alto con la possibilità che il nuovo sito ci offre di portare non solo file, non solo informazioni, ma portare servizi anche ad altri. Cosa intendo? Beh, in primo luogo, in questo banner centrale c'è un primo elemento di comunicazione fondamentale. Al centro della statistica ci sono le persone, ci sono i ricercatori, ci sono le persone anziane, ci sono le persone che lavorano, ci sono i bambini, ci sono i giovani che, ad esempio, usano il computer tutti i giorni. Questo fa il 40% dei ragazzi. Quindi mettere le persone al centro della statistica non vuol dire naturalmente dimenticarsi le cifre, i grafici. Per questo, accanto a questo banner, tra l'altro questa immagine la trovo assolutamente straordinaria, di questo bimbo che dorme, abbiamo le ultime notizie. Abbiamo le ultime notizie che sintetizzano i comunicati stampa che noi rilasciamo ogni giorno, quasi 300 in un anno, per far capire come stanno le cose in Italia dal punto di vista demografico, ambientale, sociale e naturalmente economico. Ad esempio, abbiamo recentemente rilasciato i dati sugli indicatori ambientali, urbani, cioè indicatori che riguardano la vita di tutti i giorni, di noi cittadini che abitiamo nei grandi centri, ma non solo. È sufficiente cliccare qui, sul testo integrale, e si apre il link al comunicato stampa. Un comunicato stampa che si apre con i dati chiave e con dei grafici, che ci aiutano a capire l'evoluzione storica dei fenomeni, ma anche a confrontare la situazione, ad esempio, della nostra città, con quella degli altri centri. In questo caso, ad esempio, abbiamo la raccolta differenziata, un tema che guadagna spesso le prime pagine dei giornali. Bene, a Pordenone, quasi il 79% dei rifiuti è raccolto in maniera differenziata, mentre all'estremo opposto abbiamo a Enna soltanto l'1,2%. Ecco, dati che servono a capire meglio la città in cui viviamo, a prendere decisioni, a capire meglio la realtà che vogliamo costruire. Questi sono i comunicati stampa, ma il sito web dell'Istat offre molte più informazioni. Offre informazioni sui metadati, ad esempio, cioè sui dati che aiutano a capire che cosa vogliono dirci i nostri dati. Consente il nuovo sito web di scaricare direttamente grafici e capire meglio, quindi, come va l'economia, ad esempio. Questo è l'andamento del prodotto interno lordo nei vari trimestri. Questo è un grafico dinamico, è sufficiente cliccare su queste pallini, che sono i dati relativi ai diversi trimestri e ci sono i dati numerici. Vogliamo sapere come va l'inflazione? Possiamo passare direttamente all'indice dei prezzi al consumo e vediamo che l'inflazione negli ultimi mesi è in netta crescita. Ma, dopo aver visto questo dato, forse vorremmo essere informati continuamente di come vanno questi indicatori. Allora è sufficiente aprire questa finestra. Qui c'è un link, copiare e incollare quel link sul nostro sito web o sul nostro blog o su qualsiasi altro sito di nostro interesse. Questo vuol dire che i due siti saranno dinamicamente legati e ogni volta che questo grafico verrà aggiornato sul sito dell'istat, lo sarà anche sul sito dell'utente. Ecco, vedete, questo sito non è soltanto un sito per scaricare informazioni, ma è un sito di servizio. Siamo interessati a una regione particolare, ad esempio il Veneto? Vogliamo avere immediatamente i dati chiave di quella regione? Ad esempio la popolazione? Siamo interessati a vedere la popolazione residente che si è trasferita da una regione a un'altra. E qui abbiamo i dati per diverse province del Veneto dal 2006 al 2009. Siamo però interessati a confrontare questi dati con quelli di altre regioni? Possiamo cliccare su i.stat, che è la banca dati sempre più ricca di tutti gli indicatori economici, sociali e ambientali e abbiamo immediatamente qui il confronto tra il Veneto e le altre regioni. Come vedete queste informazioni sono molto più facilmente accessibili rispetto a prima, ma non solo le informazioni statistiche. È possibile infatti accedere molto più facilmente alle informazioni sui metodi seguiti dall'Istat, sul software utilizzato per produrre i dati, le definizioni, le classificazioni. Ad esempio cliccando qui abbiamo la possibilità di andare sul glossario dei termini statistici e quindi per curiosità o per interesse reale, professionale, possiamo capire cosa l'Istat intende per un addetto, che cosa intende per altro tipo di alloggio e così via. E quindi riuscire a capire se i dati che raccogliamo dal sito Istat, ma anche da altri siti, sono pienamente comparabili o meno. In altre parole è un sito questo che aiuta a trasformare l'informazione in conoscenza, che è esattamente la mission del nostro Istituto. Infine abbiamo la possibilità di centrare immediatamente l'attenzione su certi temi rilevanti per il dibattito. Ad esempio siamo interessati a capire le condizioni economiche delle famiglie, perché di questo si parla molto a causa della crisi economica, allora andiamo sulla pagina dedicata alle condizioni economiche delle famiglie, dove abbiamo i dati sulla povertà, il risparmio delle famiglie, i consumi, la fiducia dei consumatori e anche in questo caso abbiamo la possibilità di accedere a degli indicatori chiave andando su i.stat e poi navigare, esportare questi dati in Excel e così riutilizzarli. In conclusione è un sito che ha tutti gli strumenti più avanzati dal punto di vista della visualizzazione, del riutilizzo dei dati. Sempre di più vogliamo che i computer degli utenti siano in grado di interloquire direttamente con i nostri computer e quindi neanche dover andare sul sito, scegliere in qualche modo le cosiddette query, le tavole cioè con i dati, ma una volta fatto questo sarà possibile con un click rinfrescare quella tabella e quindi evitare di rifare tutto questo processo più volte. Abbiamo nel sito i link ai maggiori social network, Twitter, YouTube e così via, dove è possibile non solo seguire le attività dell'Istituto, ma anche ad esempio seguire le attività che ci sono state nel recente passato attraverso i filmati che descrivono gli eventi stessi. Sempre di più arricchiremo questi siti, queste pagine con informazioni dettagliate proprio per i meno esperti, in maniera tale da riuscire a leggere con maggiore facilità le informazioni che l'Istat produce. Molte informazioni sulle attività dell'Istituto, su dove trovare le informazioni anche istituzionali importanti, sui bandi di gara, sui concorsi, la trasparenza, la valutazione, il merito, tutti elementi importanti per un'istituzione che è all'avanguardia nel mondo della ricerca e che vuole lavorare in modo trasparente rispetto al pubblico. Questo è un sito bilingue, è un sito completamente aperto anche all'inglese, perché oggi nel mondo globalizzato non sono solo gli italiani che si interessano dell'Italia, ma tutti nel mondo possono essere interessati a capire come va l'economia, come va la società italiana per, ad esempio, investire in Italia. Per questo l'Istat fa un servizio non solo verso i cittadini italiani, ma verso i cittadini di tutto il mondo. Questa è solo la prima versione di un sito che evolverà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insieme alla tecnologia, insieme anche alle richieste che gli utenti ci faranno. Saremo molto più aperti verso i formati emergenti per consentire, come dicevo prima, ai computer di scambiarsi i dati direttamente. Saremo pronti a recepire le osservazioni che gli utenti ci faranno per arricchire il sito, per legarlo maggiormente a quello di altre istituzioni. In conclusione, un sito aperto, fortemente innovativo, apprezzato. Abbiamo avuto anche un premio, prima addirittura del lancio ufficiale. Dal primo agosto il sito nuovo dell'Istituto Nazionale di Statistica è questo, un passo avanti fondamentale per rendere l'Istat sempre più utile, sempre più vicino ai cittadini, alle istituzioni, agli enti di ricerca, insomma per aiutare il Paese, e non solo, a trasformare l'informazione statistica in conoscenza utile per prendere decisioni ogni giorno per il futuro nostro e quello anche delle future generazioni.